A Palazzo di Città di Taranto è stato fatto il punto sul biennio di alta formazione che si è concluso. I partecipanti hanno lavorato con le eccellenze del territorio. Si tratta di un percorso biennale di 2000 ore di cui la metà sul campo. Tanti giovani diventano imprenditori dopo questa specializzazione, proponendo al territorio i servizi mancanti. È un sistema che consente di trovare occupazione per oltre il 98% dei diplomati dell'Istituto Tecnico Superiore e si mette in luce un risultato straordinario. A 12 mesi dal diploma sono circa il 98% gli occupati. È un percorso alternativo all'università che dà la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e non esclude la possibilità di laurearsi in un secondo momento. avendo già guadagnato un know-how preziosissimo. Gli istituti tecnici trasferiscono altissima competenza e insegnano a gestire le nuove tecnologie. Questi ragazzi sono l'espressione della resilienza di questa città, cioè la capacità di sperare e sono loro stessi la speranza di un futuro possibile per Taranto. Nel senso che è una città che si sta svincolando piano piano dalla monocultura dell'acciaio muove lungo percorsi economici differenti e il turismo è assolutamente uno di quei percorsi. Il Salento e Taranto in particolare puntano sulla Blue Economy e sul sistema portuale. Nel biennio trascorso gli studenti dell'Istituto Tecnico si sono specializzati con le imprese più importanti del territorio. Giuseppina Antonaci, presidente della fondazione ITS, spiega che in un'epoca di grandi trasformazioni tecnologiche gli istituti tecnici superiori giocano un ruolo decisivo nella formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali ed internazionali, consentendo di realizzare modelli di sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità funzionali al mondo del lavoro, attraverso un'offerta formativa fortemente correlata a un reale bisogno delle aziende. Noi quest'anno abbiamo chiuso gli ultimi quattro percorsi, sui primi due abbiamo realizzato un placement del 98% e quindi praticamente diciamo che solo due ragazzi, ma perché si sono iscritti e hanno proseguito l'università non sono attualmente occupati, altrimenti grazie addio a tutti quanti hanno trovato la loro strada. È chiaro che alle volte sono strade diciamo in un certo senso fra virgolette definitive, alle volte sono delle strade che servono a specializzarsi ulteriormente e quindi ad avere, poi i nostri ragazzi hanno imparato o meglio una delle capacità trasversali è proprio quella della flessibilità, dell'autonomia progettuale di un percorso di vita che loro sanno di doversi costruire mattone sul mattone. Prossimo appuntamento informativo martedì 28 gennaio, ore 9 a Lecce, agli officine Cantelmo, con l'incontro intitolato La sostenibile bellezza dell'alta formazione specialistica.